Ieri ci hanno rubato una tonnellata di cemento, sono andata a sporgere denuncia, la stampa, i giornali hanno parlato di noi, tanti servizi televisivi per denunciare questo fatto incredibile, una tonnellata di cemento rubata al mosaico di Andreina. Stamattina ho ricevuto una telefonata che veramente mi ha reso felice e mi è arrivata questa consiglia. Era stata la stessa artista e ideatrice del mosaico più grande di Europa, quello di indicatore alla chiesa di Santo Spirito a denunciare il furto di una tonnellata di cemento. Alcuni malviventi nella notte tra mercoledì e giovedì erano infatti riusciti a portare via il materiale donato da un'azienda retina che sarebbe servito per la navata interna della chiesa. Andreina aveva anche deciso di fotocopiare il verbale della denuncia presentata ai carabinieri e lo aveva affisso in tutti gli esercizi commerciali del paese. Ed adesso la buona notizia, una nuova donazione per il mosaico ad indicatore, sono infatti arrivate ben due tonnellate di cemento. La consegna è avvenuta, noi siamo collaboratori da anni con la signora Andreina e il nostro titolare ha pensato bene di fare questa donazione. Quindi Pietro Sgrevi di nuovo si è rivelato una persona generosissima che ormai segue questo progetto da tanti anni e che dire, io vi ringrazio, ringrazio la stampa, ringrazio tutte le persone che hanno contribuito a rendere nota questa notizia spiacevolissima che comunque ha colpito una collettività intera. Grazie.